A me il rap facevamo pazzire Facevamo pazzire quel ritmo, quelle cose che dicevano Tutta la storia sociale che c'era dietro Era una mezza rivoluzione quando abbiamo cominciato a portare l'hip hop in radio Intuivamo che lì c'era qualcosa di importante da raccontare Tutti dicevano che il rap in italiano non si poteva fare, era impossibile Io percepivo che questa scelta di Luca di rappare in italiano era una cosa nuova Ed era una cosa potente che poteva influenzare anche il linguaggio Sembra sempre che manca qualche cosa, sembra sempre che non si parla poi del tempo in cui viviamo Il mestiere dell'artista dovrebbe essere quello, cioè cantare o restituire quello che vive La cosa che mi piace di più di assalti frontali è il fatto che loro siano attivisti Che poi traducano quello che hanno vissuto in musica e facendolo anche bene Io penso che nel corso della vita uno cerca degli strumenti per difendersi dalla violenza di questa società Io sono con te 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 Io sono con te